Aperture straordinarie dei 13 centri trasfusionali dell'Asla Toscana Sud-Est nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Un progetto per incentivare la donazione di sangue e soprattutto di plasma. Proprio quest'ultima ha fatto registrare una moderata crescita. Un altro invito che abbiamo da parte del Centro Regionale Sangue è quello di promuovere in modo particolare la donazione del plasma, che è una singola parte del sangue, la parte liquida, più facile a rigenerarsi, che può essere donata a tutti. Quindi anche un gruppo come la B, che in teoria come sangue intero potrebbe donare solo alla B, può donare, se dona plasma, a tutti la sua componente liquida che si rigenera addirittura in solo due settimane. Quindi dopo due settimane si può effettuare una nuova donazione e è fondamentale perché è il primo farmaco che viene somministrato appunto in caso di sinistri, in caso di necessità di reintegrare liquidi, perché anche non conoscendo il gruppo del ricevente può essere donato e oggi è la componente fondamentale di un numero sempre maggiore di farmaci, anche salvavita. Per cui ci viene richiesto di lavorare soprattutto nell'implementazione della donazione di plasma. Per coloro che volessero donare è possibile contattare i centri di riferimento della propria provincia oppure scaricare la app Avis Toscana. Per sapere effettivamente qual è la situazione di necessità rispetto alla donazione di sangue, chiunque può scaricare dal proprio store, sia Android che Apple, un'app che si chiama Avis Toscana, nella quale ci sono le informazioni riguardo alla sede Avis più vicina, come diventare donatori e c'è anche una sezione chiamata meteo del sangue nella quale si vede lo stato aggiornato di necessità rispetto ai vari gruppi sanguigni.